Laura, prima di tutto, come sta il gruppo dopo la grande impresa con l'Australia? Sicuramente stiamo tutte benissimo. La vittoria di domenica scorsa è stata un'emozione incredibile. Ovviamente siamo già pronte per allenarci e pensare alla prossima partita. Le emozioni sono state tante, però bisogna metterle a punto da parte perché la prossima partita è ancora più importante contro una squadra, la Giamaica, che anche lei è una squadra forte, quindi dobbiamo stare tranquille, pensare ad allenarci e a fare il massimo. La vittoria ci ha caricate molte e l'obiettivo comunque è quello di andare più avanti il possibile, ma come era già dall'inizio. Quindi noi sappiamo che non basta comunque solo questa vittoria, quindi dobbiamo fare ancora di più e dare ancora di più, quindi ci impegneremo. E della Giamaica cosa sapete? Beh, ovviamente è una squadra molto forte che anche loro penso che voglia far bene e andare avanti e quindi noi dobbiamo fare il nostro e poi ovviamente studieremo comunque nelle varie riunioni come giocano. Beh, comunque è un mondiale un po' a sorpresa, diciamo, come può essere stata la nostra partita, quindi non bisogna dare nulla per scontato, ma bisogna scendere in campo e fare il proprio dovere. Sono stati tantissimi allo stadio, tantissimi a seguirci da casa ed è stato bellissimo, un'emozione grandissima e comunque il tifo che ci fanno ci dà carica e quindi ringraziamo tutti i tifosi.